Dopo le recenti inchieste che stanno facendo tremare i palazzi del potere in Puglia e in Sicilia e che hanno messo nel mirino big della politica e dei consensi, in vista delle prossime amministrative la Commissione Nazionale Antimafia lancia un'iniziativa di controllo volta all'obiettivo di garantire le cosiddette liste pulite, libere ed eventuali impresentabili per presidenti penali o altre cause. E così il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Chiara Colosimo ha scritto al Sindaco affinché venga rispettato il codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste e delle candidature per le elezioni europee e comunali. Si tratta di una disciplina approvata dalla Commissione Antimafia che definisce per i partiti e le liste che la adottano su base volontaria i criteri di candidabilità in relazione alla situazione giuridica dei soggetti considerati. I rappresentanti dei partiti, dei movimenti o delle liste civiche che aderiscono possono trasmettere alla Commissione con il consenso degli interessati 75 giorni prima la data fissata per le elezioni e le liste provvisorie delle candidature. Una proposta già accolta dal gruppo civico di una buona idea che insieme al candidato sindaco di riferimento, Terenziano Di Stefano, ha già provveduto a inviare i nominativi in lista per intero e si è presto a inviare anche gli altri nominativi delle liste della coalizione. Un atto dovuto per garantire serenità e trasparenza a chi andrà a votare, ha detto Di Stefano. Se vogliamo veramente bene al nostro territorio, se veramente vogliamo dare un messaggio di serenità ai nostri elettori, io credo che sia un atto dovuto in questo periodo e quindi noi lo abbiamo fatto già con la lista di una buona idea, è già stata trasmessa alla Commissione nazionale antimafia. Nei prossimi giorni, man mano che le liste degli alleati mi trasmetteranno, le loro liste verrà inviata e quindi mi auguro che gli altri candidati a sindaco ma con le proprie liste facciano la stessa cosa. La trasmissione delle liste non è obbligatoria ma l'adesione alla richiesta della Commissione parlamentare rappresenta comunque un messaggio piuttosto chiaro in un periodo anche di polemiche su questo tema. Proprio per questo anche gli altri quattro candidati a sindaco, Grazia Cosentino, Salvatore Scerra, Miguel Donegani e Filippo Franzone, nei prossimi giorni aderiranno all'invito della Commissione che una volta ricevuti i nomi verificherà la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del codice di autorregolamentazione.